La donna immobile Tanto in riso e mento niero E'egu i'e'e'g E'egu i'e'g I'e'g E'g 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. 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 Dr. a tutti. a tutti. a tutti. Dr. a tutti. a tutti. a tutti. Dr. a tutti. 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 Sì, sì, sì! It's late, it's really, really late. It was a long time ago. Lady ran away from the hospital for a second. She took her paper. They jumped into the light. She shoved me in a tree. What's in the closet? It's really, really late. It's really, really late. It's really late. It's really late. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.